Il mio personaggio si chiama Fidalma, è un personaggio molto interessante per il fatto che è una donna forte, dai recitativi si capisce che è rimasta vedova ed è una donna ricca e questo le permette di avere una sua indipendenza anche affettiva. Infatti poi nel corso dell'opera si innamora di Paolino e questo genera una serie di misunderstanding, incomprensioni divertentissime ma è comunque anche un bel messaggio proprio per la figura della donna, il fatto che sia una donna libera di scegliere quello che più le piace. La nostra regista Irina Brooke sottolinea proprio questo aspetto erotico sessuale della sua libertà e penso che sia un tema molto attuale e molto importante perciò insieme al buffo c'è anche da riflettere. Grazie.